6 film e 12 cortometraggi italiani e stranieri in concorso, installazioni, anteprime nazionali, dibattite, mostre fotografiche, di fumetti e ingresso gratuito per l'intera manifestazione. È la prima edizione dell'Horror Film Festival, la rassegna dedicata all'arte horror che si svolgerà il 24, 25, 26 e 27 novembre in varie location del centro storico. La manifestazione, organizzata dall'associazione L'Aquila Young, in collaborazione con l'Aquila Film Festival, è stata presentata in conferenza stampa e prevede numerosi eventi per tutti gli appassionati di cinema e non solo. Oggi appunto annunciamo la presenza dello special guest che è il maestro Sergio Stivaletti, noto regista e specialista in effetti speciali dei film italiani, ha collaborato con Dario Argento, con Michele Soavi ed altri registi importantissimi. Lui sarà presente giovedì per inaugurazione per il Palazzetto dei Nobili alle ore 5 e poi proietteremo a seguire il film restaurato in anteprima nazionale, La Maschera di Cera, che è un film del 1997 che è appena stato digitalizzato e restaurato in occasione della presentazione del ventennale che ci sarà l'anno prossimo e quindi noi abbiamo la fortuna di averlo in anteprima qui all'Aquila. Da qui poi si alterneranno tantissimi altri eventi a 360 gradi. Oltre ai film in concorso e ai corti in concorso avremo anche delle performance dark, mostre fotografiche, presentazioni di libri in varie location. Ci hanno appunto il Palazzetto dei Nobili, l'asilo occupato e il Science Institute alla Villa Comunale, dove faremo la premiazione domenica 27 novembre. Accanto alle proiezioni dei film e dei cortometraggi in concorso, infatti, sono in programma mostre ed esposizioni artistiche per l'intera durata del festival.